In questa video lezione noi parleremo della fisiocrazia. Cominciamo a dare una definizione partendo naturalmente dal nome, che è composto da due termini greci, fiusis, natura, e kratos, potere. Di fatto, secondo questa teoria settecentesca, la natura domina i meccanismi economici. Ma in che modo? E lo vediamo dal teorizzatore di questa teoria settecentesca, cioè François Quinet. Egli riteneva che il commercio e l'industria fossero sterili, nel senso che modificano beni che già c'erano prima e quindi non accrescono la ricchezza di una nazione, mentre ritiene che l'agricoltura sia l'unica che possa essere produttiva e quindi possa accrescere la ricchezza della natura, perché dopo aver segnato il campo si ottiene un prodotto netto che prima non si possedeva. Questa semplice riflessione di Quinet porta ad alcune conseguenze, cioè che l'agricoltura diventa veramente il motore di una nazione, perché è l'unica che riesce ad accrescere la ricchezza di uno stato e nello stesso tempo, di fatto, fa crescere anche il benessere di chi in questo stato vive e quindi in qualche modo si raccorda con uno dei principi, uno degli obiettivi dell'illuminismo stesso. Ma andiamo un pochettino più nello specifico. Quali sono i compiti, secondo che ne è, che lo stato deve porre in essere per permettere appunto questa sua crescita, deve innanzitutto incrementare e migliorare il settore agricolo, quindi gli investimenti in capitali devono essere fatti in particolar modo per sviluppare nuove tecniche di coltivazione. Nello stesso tempo bisogna eliminare i vincoli normativi che talvolta ostacolano la compravendita delle terre e in ultimo, ma non per questo, ma in importante, aiutare chi, possedendo naturalmente dei soldi e delle ricchezze, decide di investire questo denaro per migliorare la produttività agricola. Queste sono le tre azioni che ne ritiene essere fondamentali che uno stato deve porre in essere. Ma in quel periodo che cosa succedeva? In che cosa investiva lo stato? Ricordiamo in quel periodo una delle teorie più sviluppate, anche delle pratiche per certi aspetti, insomma economiche maggiormente utilizzate da alcuni stati, era quella del mercantilismo, cioè per difendere i prodotti della propria nazione venivano imposti dei dazi doganali molto alti con fronte dei prodotti che venivano appunto da fuori, proprio per proteggere le manifatture e comunque i prodotti di quella nazione, venivano dati degli aiuti molto forti alle manifatture per produrre degli oggetti e per poterli vendere in maniera concorrenziale in questo mercato che è quello del mondo e veniva fatta una politica che aiutava la crescita e il consolidamento dei monopoli, quindi una politica che abbiamo già definito un'altra video-lezione anche aggressiva da un punto di vista politico nei confronti ovviamente delle altre nazioni, quindi ognuno difendeva quello che erano i prodotti della propria nazione. Probabilmente nella teoria mercantilistica c'è anche una paura di fondo, cioè la paura delle tante carestie aveva spinto a proteggere in particolare i cereali, il grano, cioè quei prodotti di prima necessità in caso appunto di nuova manifestarsi di una carestia e questa appunto protezione di questo grano, di questi cereali locali aveva forse portato a questa, era stato uno degli elementi che aveva portato naturalmente a una teoria più generale, era quella del mercantilismo. I fisiocratici invece ribaltano completamente questa posizione perché innanzitutto chiedono un minore intervento dello Stato e se leggi devono essere fatte devono essere fatte a favore della produzione del commercio di prodotti agricoli quindi bisogna eliminare i dazzi doganali che sono un ostacolo per i fisiocratici al libero mercato e sul concetto di libero mercato torneremo poi a una lezione sul liberismo di Adam Smith e nello stesso tempo erano a favore dell'eliminazione degli aiuti alle manifatture e a manopoli naturalmente gli aiuti dovevano, come vi ho detto nel slide precedente, arrivare da parte dello Stato ma per chi volesse investire nell'agricoltura. Evidentemente il motto dei fisiocratici era quello di lasciare fare gli uomini, lasciare passare le merci cioè era un motto che si configura in maniera specifica, come un motto liberista quindi di un libero mercato in cui gli uomini si contendono fette del mercato grazie alle loro capacità e in cui appunto questo mercato che deve diventare globale deve permettere appunto che le merci possano passare senza dazzi e quindi si sposta naturalmente la concorrenza che diventa a questo punto spietata si sposta la concorrenza più che tra nazioni tra prodotti di alcune persone in confronto ai prodotti di altre persone quindi di fatto la concorrenza come la intendiamo in termini moderni se noi alle persone sostituiamo naturalmente le aziende o l'industria abbiamo praticamente una dottrina liberista a tutti gli effetti moderna abbiamo parlato tanto di poche leggi di ridotto intervento dello Stato per permettere al mercato di esso stesso stabilire i prezzi esso stesso di fatto essere il terreno tra virgolette di scontro ma mica tanto tra virgolette tra appunto i prodotti piuttosto che le nazioni allora per i fisiocratici ma anche per i liberisti il mercato è un meccanismo naturale e autonomo cioè con leggi sue proprie naturale lo vedremo che cosa vuol dire che si autoregola appunto che si dà che stabilisce delle regole ed è chi partecipa a questo mercato che poi stabilisce queste regole vere e proprie la regola fondamentale quella a cui bisogna attenersi l'unica in questa prima epoca di liberismo sfrenato eccetera e sarà quella della domanda e dell'offerta quindi adeguarsi a questa regola della domanda e dell'offerta crea un mercato che è un fatto semplicemente naturale e addirittura un mercato che si autoregola cioè capace di correggere gli eventuali squilibri probabilmente questa fiducia esageratissima in questa capacità di autoregolarsi del mercato farà riflettere successivamente chi si avvicinerà alle teorie liberiste oggi appunto questo liberismo senza nessuna regola come era ipotizzato dai fisiocratici e come vedremo insomma essere anche caldeggiato da Adam Smith ormai questo tipo di liberismo non esiste più perché chiaramente bisogna seppure lasciare libero il mercato ma bisogna anche tutelare chi investe questi soldi da possibili e clamorosi fallimenti che non sono soltanto i fallimenti di una singola persona ma che ovviamente possono riguardare anche il fallimento di tutti quegli operai di tutti quei contadini tutte quelle persone che lavorano per questa azienda quindi lavorano per questa società è un'altra che è un'altra